Oggi affrontiamo un altro famosissimo dubbio della palestra. È meglio eseguire gli esercizi per le spalle come alzate laterali lento avanti, seduti o in piedi? Quali più sicuri per la schiena? È proprio vero che sedendosi si protegge la schiena da eventuali insulti articolari? Scopriamolo insieme! Iniziamo col dire che se consultiamo la letteratura scientifica possiamo cominciare ad avere delle sorprese che cozzano un po' con quello che hai sentito dire da palestra. Infatti un famosissimo studio degli anni 70 ci riporta che in posizione seduta le pressioni sul disco intervertebrale sono maggiori rispetto a quella in piedi. È possibile anche dire che le stesse conclusioni possono essere tratte parlando di esercizi con sovraccarichi. Quindi eseguire un esercizio come per esempio il lento avanti seduto può comportare maggiori pressioni intradiscali rispetto all'esecuzione dello stesso lento avanti in piedi. Cerchiamo ora di capire da un punto di vista anatomico il perché di tutto ciò. Per spiegare tutto ciò prendiamo in prestito un famoso modello in fisiologia articolare. Infatti questa ci ricorda che le curve del rachide sono state fatte da madre natura apposta per distribuire meglio i carichi e aumentare la resistenza della colonna. Basta infatti perdere una delle tre curve per dimezzare la resistenza della colonna e aumentare le pressioni sul disco. E come si perdono le curve fisiologiche della colonna? Una delle cause può essere appunto quella di sedersi su una panca e eseguire l'esercizio da seduti per perdere quindi la lordosi lombare. Sembrerebbe essere quindi dato da questo il fatto che da seduti si registrano delle pressioni discali maggiori rispetto che in piedi. Quindi se dal lato abbiamo appurato che un'esecuzione seduta sia maggiormente a rischio per problematiche alla schiena di tipo discale arriviamo a affrontare il discorso di problematiche alla schiena di tipo articolare le quali sono invece più a rischio durante l'esecuzione in piedi. Infatti soggetti che hanno una sintomatologia dolorosa in estensione lombare e uno scarso controllo in antiversione del bacino per una debolezza del corpo addominale potrebbero riferire dolore nei movimenti in piedi, nella loro escursione dolorosa. Per questo come sempre ricordo è importante personalizzare anche per quanto riguarda i dolori alla schiena è importante fare sempre una approssimativa divisione tra problematiche discali e problematiche articolari. Per fare una sommaria conclusione possiamo dire che per tutti quei soggetti con problematiche discali sono sconsigliate le esecuzioni seduto per quanto abbiamo visto prima. Per tutti quei soggetti invece con dolore lombare di tipo articolare in particolare in estensione sono invece da limitare le esecuzioni in piedi. Arriviamo ora a 5 conclusioni di buonsenso. Per quanto riguarda le esecuzioni delle alzate laterali appare meno importante rispetto al lento avanti la distinzione in piedi o seduto. Questo perché i carichi sono essenzialmente molto più bassi. Per cui rimanete consapevoli che in soggetti sintomatici o con storia clinica valgono le medesime considerazioni fatte poco fa. Per tutti i soggetti sani invece scegliete in base alle vostre abitudini. Secondo punto chiave per quanto riguarda l'esecuzione del lento avanti seduto sono sconsigliate assolutamente l'esecuzione con i piedi in appoggio come si vede spesso. Esecuzioni che mandano il bacino completamente in retroversione annullano la loro dosi lombare. In questo modo aumenteranno anche i carichi sui dischi. Viceversa potrebbe essere più consigliabile specie in soggetti sedentari spostare i piedi leggermente indietro e stendere un pochino le anche in modo tale da mantenere il bacino in leggera antiversione e di garantire una ottimale estensione lombare. Ciò diminuirà la pressione sui dischi soprattutto se associato a un'ottimale attivazione della muscolatura come trasverso dell'addome e multifido. Terzo punto Per tutti quelli che svolgono lavori sedentari con ore e ore davanti al pc il mio consiglio è quello di eseguire in assenza di problematiche cliniche alla schiena l'esecuzione del lento avanti in piedi. Ciò garantirà anche una mobilizzazione in estensione del tratto lombare tratto che rimane tutto il giorno in posizione flessa. Quarto punto Attenzione che alcuni di questi soggetti nella pratica lavorativa potrebbero riportare dei fastidi alla zona lombare durante questa esecuzione. A riguardo è importante sempre sensibilizzare il controllo del core, il corretto posizionamento del bacino e della lombare non mantenerla troppo estesa ricordando che spesso questi soggetti hanno un'alterata proprio accezione di questa zona tenendola sempre e costantemente in flessione durante la giornata. Tranquillizzate quindi i soggetti se sono solo dei fastidi dovuti appunto a queste cause. Viceversa se il soggetto invece ha delle problematiche cliniche soprattutto in estensione con dolore di tipo articolare fate attenzione e magari rivolgetevi a una figura di riferimento della riabilitazione. In ultima analisi ricordo sempre che per tutti quei soggetti con una storia clinica di dolore sia di scala articolare è fondamentale una collaborazione tra professionista del fitness e professionista della riabilitazione ma improvvisarsi da entrambi i lati ed è importante sempre indicare esecuzioni personalizzate in base alla sintomatologia, in base a livello atletico e motorio del soggetto. Grazie a tutti!